Avvicinatevi signore e ammirate le proprietà affettante di questo coltello rivoluzionario prodotto dalla Slicex, taglia, pacca, sminuzza! Questa meraviglia dell'era spaziale può fare affetta anche il vostro tagliere. Non ho mai conosciuto nessuno che voglia tagliare un tagliere. Tra l'altro se proprio bisogna affettare il legno non è meglio una sega e non bastano le forbici per tagliuzzare la carta. Certo, lei ha ragione. Ma questo coltello fa molto di più. È così affilato che tempera le matite. Ma è molto più comodo un tempera matite. Il nuovo super coltello può tagliare l'alluminio a pezzine sottili sottili. Sì, ma che serve quando ovunque si possono comprare i fogli d'alluminio già belli e pronti? La gente compra i coltelli per cucinare, quindi cosa se ne fa di un coltello che riesce a tagliuzzare e ad affettare tutti quegli oggetti? Che sto facendo? Non posso passare tutta la giornata qui a chiacchierare? Devo correre a casa a cercare la colanina di Niu. Ciao. Grazie a tutti.